Renzi ha presentato un nuovo pacchetto di riduzione delle tasse anche sulla prima cassa, lo voterete? La questione non è votare o no, è se si annuncia soltanto o si fa da zero. Io vorrei una volta tanto che in questo paese un Presidente del Consiglio intervenisse dopo aver abbassato le tasse. L'ultima volta che il Presidente Renzi ha detto di voler abbassare le tasse è stato a dicembre nella legge di stabilità, dove poi sappiamo com'è finita, il 6% di tasse locali in più, l'Imu sui terreni agricoli, anche l'Iva sul Pellet ha aumentato e le famiglie italiane lo sanno bene perché a febbraio hanno pagato delle tasse molto esose. Poi c'è la questione di trovare oltre 120 miliardi di euro, non dimentichiamo che questa manovra vale 45 miliardi di euro, quella annunciata per la quale non credo che ci siano credibilità da parte di Matteo Renzi e deve trovare altri 60 miliardi di euro di clausole di salvaguardia nella legge di stabilità per le quali che scadono a fine anno. Quindi non è un'opera giudiziale, non vi fidate che ci siano le coperture? Ma non ci fidiamo che ci siano le coperture perché sappiamo bene questo governo come ha operato in questi anni. Noi l'abbiamo visto all'opera più volte, era il governo che doveva tagliare le province, oggi le province non solo continuano ad esistere ma costano anche di più. Previso Roma, continuano scontri sulla questione dell'emigrazione, qual è la vostra posizione? In questi anni si è voluto che ci fosse un'emergenza in migrazione in questo paese perché c'era un lucro. Ogni volta che vediamo che si mettono immigrati in un edificio privato, dobbiamo chiederci lo Stato a chi sta pagando l'affitto in quel momento. Quando si comprano i mobili per arredare questi centri d'accoglienza, si comprano tutti in emergenza e quando si fanno i transfer di queste persone disperate, bisogna vedere qual è l'agenzia di pullman o di trasporti che stiamo pagando. Allora se si legge da questo punto di vista il fenomeno dell'immigrazione, la soluzione è una sola. Andare in Europa e ricontrattare il regolamento di Dublino, che oggi costringe l'Italia a farsi carico di tutti gli immigrati che mettono piede sul nostro territorio. E' una follia. Noi vogliamo creare le quote. Se ne arrivano 100 in Italia, 97 si distribuiscono negli altri paesi e 3 li teniamo noi. Perché noi siamo un paese con enorme difficoltà nella gestione di questi fenomeni, ma siamo anche il terzo contribuente d'Europa. Io credo fortemente nel peso contrattuale dell'Italia a quei tavoli. Siamo l'ottava potenza mondiale, la seconda potenza manifatturiera d'Europa. L'Europa non può fare a meno di noi. Io dico che bisogna cominciare a discutere del fatto che se siamo un'Europa solidale dobbiamo risolvere il problema dell'Italia. Che cosa è mancato in questi anni? Sono quattro anni che abbiamo presidenti del Consiglio che non hanno una solidità di consenso nel popolo e quindi ai tavoli europei vengono trattati come la cenerentola d'Europa. Euro, non euro. Tsipras è caricato un po' come Don Quixote e è stato sconfitto. Voi volete ancora uscire dall'euro? Noi vogliamo chiedere ai cittadini italiani se questo euro va bene. Se ci diranno di no attraverso un referendum andremo a quei tavoli europei con un potere contrattuale in più, quello di dire guardate veniamo in nome del popolo italiano. Vogliamo che cambiate i trattati per cui per esempio un comune oggi che ha i soldi nelle casse comunali per colpa del patto di stabilità non può spendere quei soldi per ristrutturare la scuola, non può spendere i soldi per asfaltare le strade. Se cambiamo questi trattati l'euro può anche rimanere. Se facciamo un euro a due velocità per i paesi del sud dell'Europa può anche restare e sarebbe l'estrema razza l'uscita dall'euro. Ma non credo che ci arriveremo. Noi siamo l'ottava potenza mondiale. L'Unione Europea senza di noi non può esistere. C'è qualcosa di cui è particolarmente orgoglioso ed è la battaglia che ha fatto per ridurre gli esperti qui alla Camera dove stiamo parlando. In questo palazzo si spendono 138 milioni di euro in vitalizi. Con 138 milioni di euro ogni anno compriamo oltre 20 nuovi treni per pendolare creando 5.000 posti di lavoro in più e permettendo a 20.000 persone di viaggiare non più come sardine in scatola ma come esseri umani. È un'idea di paese.